Gli applausi del Rocco all'indirizzo della Triestina arrivano al termine di una gara dove i padroni di casa e gli ospiti del Sud Tirol non si sono fatti del male. Nessuno è riuscito a segnare ma ci hanno provato entrambi sin dalle prime battute. Granocci aspetta solo un minuto per provare la girata a rete stoppata dalla difesa in maglia scura. Poco dopo è Maracchi servito da Bariti a calciare ma alzando troppo la mira. Al quarto d'ora Granocci colpisce male di testa e spedisce fuori. Dalla ribartenza degli avversari è molto ottimistico il tiro del 28 ospite a volerci provare dalla distanza. Meglio ma non di molto il colpo di testa dello stesso giocatore, Romero, assistito dalla destra. Palla fuori. L'unione è vispa e si affaccia in un paio di occasioni ma senza esito. Una bella ma debole rovesciata e un tiro di Coletti da fuori aria animano la mezz'ora di gioco. Per arrivare a fine primo tempo con una botta a fil di palo di Fink seguita da uno Freddi attento. La ripresa incomincia con il Suttirol in attacco e un abile Romero che si smarca e scarica di sinistro da dentro aria. Il portiere Giuliano blocca. A questo seguono due azioni interessanti degli altotesini che non arrivano però a scardinare la porta avversaria. La Tristina alza la mano al 64esimo ma Granocci viene contenuto sul più bello. La chance più clamorosa proviene da un'impeccabile giocata del Diablo che mette Beccaro davanti la porta. Un rigore in movimento che però il giocatore rosso l'ha bardato spreca spedendo fuori nonostante davanti la porta il Suttirol avesse già piazzato il pullman. Al 71esimo è troppo telefonato il tiro del neo entrato Bollis per l'Unione al contrario della bordata di Coletti che da casa sua accoglie la traversa anche complice la leggera pizzicata del portiere. L'Unione nel finale calca la mano ma l'insistenza non è premiata dal gol. Termina dunque con un pareggio e una striscia positiva che prosegue per la Triestina. Sempre al secondo posto ma avvicinata dalla Feralpi Salò vittoriosa contro i Rimini.